Su Windows Update è uscito così un nuovo aggiornamento e c'è chi ha avuto problemi all'installazione di questo aggiornamento KB5062.660. In questo caso è possibile risolvere il problema se Windows ha scaricato degli aggiornamenti e li ha bloccati l'antivirus, vanno cancellati e poi riscaricati di nuovo con l'antivirus spento e poi fare l'installazione. Come puoi vedere mi ha scaricato l'aggiornamento senza problemi e non mi resta che installarlo. Quindi se ti esce anche un errore tipo 0x800 7401 che sarebbe l'errore di installazione dell'aggiornamento è possibile risolvere tutto attraverso Windows Update oppure semplicemente risolvi. Eccolo qua. Trova e risolvi i problemi con Windows Update. Quindi scrivi trova e risolvi. Eccolo qua. Trova e risolvi i problemi con Windows Update. Windows Update è un vecchio pannello che ti aiuterà a ripristinare automaticamente Windows Update. Quindi ci clicchiamo sopra, facciamo avanzate e facciamo un'operazione di ripristina automaticamente. Dopo che ha risolto questi problemi devi riavviare il computer. E facciamo avanti. Farà così una diagnostica autocomputer per vedere se ci sono errori. E se ha trovato degli errori li andrà a risolvere. In ogni guida di Windows Update spiego sempre il fatto di aggiustare e fare una manutenzione al tuo computer attraverso i comandi di Small Line Cleanup e SVC Scan. Come puoi vedere non ha trovato niente perché non c'è nessun errore da risolvere qui sul mio computer. Perché è già tutto risolto. Perché io faccio manutenzione al computer, faccio la scansione dei file corrotti e mi vengono così ripristinati. E quindi facciamo chiudi. Se non dovesse funzionare puoi provare a reimpostare il tuo computer. Quindi reimposta il PC. Se tu usi il computer per lavorare e hai dei file importanti puoi reimpostare il computer mantenendo i tuoi file e ti cancellerà i programmi di Windows e i programmi che tu hai installato. Ma quindi ti mantiene i file che tu hai creato nelle cartelle. Reimposti il computer. Quindi o lo formati da zero. Quindi ripristi nel PC. Rimuovi tutto oppure mantieni i miei file. E' quello di reinstalla Windows con l'ultimo aggiornamento rilasciato. E questa è una delle tante opzioni che ti posso consigliare in questa guida. Poi c'è il fatto di sfc-scanno. Quindi il sfc-scanno dove sta eccolo. Saliamo un po' so. Quindi ti ho lasciato in descrizione sia il sfc-scanno che il dismo online clean ape. Eccolo qua sfc-scanno. E poi abbiamo il dismo online clean ape image. Eccolo qua. Tutto in descrizione. Basta che copi questi comandi. Vai sul cmd. Lo avvi come amministratore. Perché se non lo avvi come amministratore non funziona. E incolliamo il comando. Una volta eseguito questo ci vorranno 15-20 minuti per fare una manutenzione completa al tuo computer. E prova anche a usare il sfc-scanno per trovare i file corrotti e danneggiati. E quello te li ripristina. Dopo che hai fatto tutte queste procedure devi riavviare il tuo computer. Ora, se tu hai scaricato gli aggiornamenti su Windows Update ma non funzionano, possiamo eliminarli. Andando su questo pc, disco locale C, va in Windows. Scende fino a giù fino a trovare così la cartella Software Distribution. Vai in download e qui ci sono tutti gli aggiornamenti che tu hai scaricato. E se non funzionano, sono corrotti. Quindi non funzionano. Ti consiglio di cancellare questi aggiornamenti. Li cancelli tutti e riprova di nuovo a scaricare quegli aggiornamenti là. Gli ultimi rilasciati da Microsoft. Poi può essere un problema dei servizi. Quindi se andiamo su servizi e scendiamo fino a giù fino a trovare così Windows Update. Può essere che questo servizio è spento e non si riavvia da solo. Può stare su nessuna azione. Quindi riavvia il servizio. Generale, in esecuzione. Tipo di avvio metti automatico. Lo puoi mettere anche manuale e lo avvii tu stesso il servizio. E dopo riprovi a scaricare e installare gli aggiornamenti. Io metto automatico e faccio applica e faccio ok. Poi Windows Installer. Puoi provare ad avviare il servizio. A me è arrestato. Quindi faccio un attimo avvia e vediamo se si avvia. Si è avviato il servizio di Windows Installer. Ripristino. Riavvia il servizio. Non mi fa fare nulla. E faccio ok. E chiudiamo questa schedina qua. Quindi prova a fare queste procedure con il CMD. SF Ciscano di Small Line Cleanup Image. Risolvi i problemi con Windows Update. Con il vecchio pannello di Windows. Poi cosa c'è? Ripristino automatico del computer. Quindi formattazione da zero. Oppure mantieni i tuoi file. Poi peraltro puoi commentare sotto al video. Se vuoi guardare anche le altre guide con più passaggi completi. Ti ho lasciato le guide in alto a destra nella playlist. Quindi come ho detto. Per qualsiasi cosa puoi commentare sotto al video. Se questo video è stato utilissimo puoi iscriverti. Lasciare like. Io adesso mi metto a installare questo aggiornamento. Per vedere che cosa hanno rilasciato. Poi dopo questa guida. Lascerò quindi rilascerò un'altra guida. Su nuove funzionalità di Windows. Per vedere che cosa hanno messo. Per aggiornarti e informarti. Su che cosa hanno rilasciato. Grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi. Ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.